Non ho difetti di pronuncia. Oh, questo non ha importanza. Da quando esiste il sonoro, all'Aurora Film si gira muto. Ah, sì? Sicuro. A noi basta il fisico dell'attore. Poi con doppio agio si aggiusta ogni cosa, è più semplice, è vero, Baldi? Certo. Certo l'attore si sente più a suo agio. Deve essere dinamico, lei. A me piacciono gli uomini dinamici. Ah, sì? Mi fa piacere. Molto piacere. Dunque, dicevamo... Cosa dicevamo? Che il doppiaggio è il toccasano del cinema. Ah, già. Avanti. Mi ha fatto chiamare, comandatore.